Il Consiglio Provinciale di Teramo ieri pomeriggio ha approvato a maggioranza l'atto di indirizzo sulle società partecipate, dando mandato all'assessore Vannucci di approfondire ulteriormente l'argomento prima di tornare in Consiglio e decidere il recesso da alcune di loro. L'opposizione in segno di protesta è uscita e per evitare eventuali discussioni non hanno votato i consiglieri di maggioranza Micheli e Montebello, che sono nel Consiglio di Amministrazione di Team e Arpa, due di quelle società da cui la provincia dovrebbe uscire. Ma le polemiche imperversano e oggi il presidente Walter Catarra ha intervenuto per fare chiarezza e ribattere colpo su colpo alle accuse definite false e demagogiche mosse dalle opposizioni. C'è stupore per il comportamento della minoranza perché la delibera approvata non parla di recesso ma è di indirizzo a fare ulteriori accertamenti, andando incontro a quanto da loro proposto, cioè non affrettare subito le decisioni. E non sarà l'assessore Vannucci a decidere, dovrà solo portare avanti le analisi senza svilire il compito di deliberare le scelte che resterà del Consiglio. Rivedere le partecipazioni della provincia in società è un obbligo previsto dalla legge, tanto che fu proprio la precedente giunta ad avviare gli studi, spendendo anche 40.000 euro a tal fine. Ci dicono che usciamo da società che garantiscono utili, prosegue Catarra, ma l'utile non è la mission della provincia, che deve stare in società che siano strumentali all'ente. Senza dimenticare che molte di loro sono in perdita e che queste sono partecipazioni con percentuali estremamente basse, anche sotto l'1%, e che dunque non garantiscono neanche il controllo, cosa che la legge vuole. Circa le accuse mosse per il probabile recesso da Team e Arpa, Catarra spiega. Non c'è più nessun interesse a stare nell'Arpa perché la partecipazione delle province all'epoca fu data e fu istituita, diciamo così, perché c'era la necessità di fare il piano dei trasporti locali. Oggi non c'è più nessuna necessità in questo senso. Poi c'è la Team, anche qui altro discorso tecnico, nel senso che la Team gestisce attualmente i rifiuti per un consorzio della provincia di Deramo e noi abbiamo lato, noi come provincia dobbiamo quindi gestire i rifiuti dalla A alla Z, diciamo così, e non possiamo certo stare in una società che gestisce rifiuti direttamente. Non esiste alcuna incompatibilità per i consiglieri Micheli e Montebello, se mai vi fossero dubbi si dissolveranno col recesso. La nostra, chiude Catarra, è un'operazione di trasparenza e benché non richiesto dalla legge la estenderemo anche alle partecipazioni in consorzi e fondazioni.